Parliamo con Giuseppe Bosetti, il coach di ORAGO, una gara bella da parte delle sue ragazze che hanno impegnato a lungo la capolista. Sì, siamo contenti, a parte il terzo set, la gara l'abbiamo affrontata bene, con il giusto spirito, niente da dire alle ragazze, dubbiamente dalla parte opposta si trovava una squadra molto quadrata, per cui per noi è già stato un successo far quello. Come detto il terzo set poteva essere un po' più combattuto da parte nostra, però nel complesso possiamo essere contenti. Nel secondo siete andati addirittura a un passo per portarlo a casa, un buon risultato? Sì, va bene, ma per noi il buon risultato è averlo giocato, dopo se lo portavamo a casa era grasso che colava, però va bene così perché le ragazze più tempo stanno in campo e più imparano, sono molto giovani e questo le serve. Quindi fino a questo momento è soddisfatto della crescita del gruppo, della crescita delle sue ragazze in questo campionato? Parzialmente, perché ci sono alcune che vanno col passo giusto, altre che stanno camminando troppo lentamente. Bisogna che tutte si mettono un po' a correre, però dobbiamo avere la pazienza, bisogna essere lì a spingere ogni momento, affinché capiscano che correndo qualche cosa in più lo faranno.